Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde. Tanti auguri a me che compio 19 anni. In questo video volevo informarvi di una notizia non affatto piacevole ai giocatori che stanno aspettando la modalità parco giochi su Fortnite. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione e a lasciare un bel mi piace al video. Grazie a tutti quelli che lo faranno. E iniziamo subito. Questa notte il team di Fortnite sul proprio account Twitter ha pubblicato questo post con scritto non siamo ancora in grado di risolvere i problemi che impediscono il lancio della modalità a tempo limitato parco giochi. Stiamo mantenendo l'uscita fino alla prossima settimana per continuare a martellare questo fine settimana. Nel senso per risolvere i problemi presenti ancora in quella modalità. Siamo spiacenti di non essere stati in grado di farti entrare nella modalità a tempo limitato. Sappiamo che aspettare è il peggio. E pochi minuti dopo ha pubblicato quest'altro post con scritto ti aggiorneremo con ulteriori informazioni lunedì 2 luglio. Perciò la modalità parco giochi sicuramente non verrà rilasciata prima di lunedì 2 luglio. Bisognerà attendere fino a lunedì 2 luglio per ricevere ulteriori informazioni dal team di Fortnite. E niente ragazzi se ci saranno altre notizie, novità e informazioni ve le porterò sempre sul canale. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orkoverbe tutto noi ci vediamo al prossimo video. Bella!